Ragazzi questo caffè è la fine del mondo, vero Michelle? Sì Alfie, concordo con te, è veramente buono. Crizio, ma cosa stai guardando? Alfie, Michelle, c'è il signor posteggiatore che manda dei segnalini strani. Capo, i soldi mandare capo! Ma che persone zavorde che ci sono a Catania, è proprio uno scempio, è una scempio. Io sono veramente indignato. Immaginate se fossimo stati come lui. Come lui? Immaginate se fossimo stati come lui. Che quando tu ci vai a mia ma chiamare Stai divindando, sì, e fare i belli ship Che quando la gente mira a mia cimare Amore, mamma, mi cantare sta smittin' Amore, mamma, mi cangiare un zip Amore, mamma, e mi pigiare a scena Amore, mamma, e me pui la cittina Amore, mamma, quando guarda sta cadina Amore, mamma, e amore la taccina Amore, mamma, e a fare una rapina Amore, mamma Ninna macchina rubare E non vorrà diamo a fare E tutti quanti in loro amano a cantare Amore, mamma, e a fare una rapina Amore, mamma, e a fare una rapina Amore, mamma, e un'altra rapina come mi piace a mia ma chi è stato? Michele ho fatto un ingupo terribile e ero diventato un zavordo ma cos'è chi è Michele? mi sta fanno fidere il gioco ma non lo sai niente ragazzi questo video era se fossimo nati mammoriani spero che vi sia piaciuto qui siamo in compagnia con fidere a rosso e quindi mettete 250 milioni di like per il prossimo video con pittiri e con audio mentre se vuoi fare bococchia a legge e quindi mettete 250 milioni e mezzo di like per il prossimo video con pittiri e con audio mentre cresce oh e a me non mi consideri eh e magari sa bozzare ma ecco bravo ma tra la macchina tu c'è il posteggiatore che gli sta facendo dei segnalini strani e questa lì c'è mi cattari gioja ma mi mi cattari stais metti miь noi me ma mi canjarù sippi miy noi mi ma ma mi bittiri e spio mi ma man bu 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 Grazie a tutti.